Fate largo, è una situazione d'emergenza, si tratta di un'emergenza, fate solo... Ehi, calma, non è un'emergenza tanto grave. Ah, quel gatto è gatto! Ti piace questo? Signora, ma che diavolo le prende? Datevi un po' una calmata, gente. Sei un gattino cattivo! Mi piace infame l'espresso, è andato. A quanto pare dovrò prendere la caffettiera per stempo. Lo prendo, lo prendo! L'ha preso! L'ha preso! L'ha preso! L'ha preso! Ti do, anche per te! Sto bene, sto bene. Sto benone. Che cosa ci fate qui, ragazzi? Ah, come sono contento che ti abbiamo trovato. Preoccupati per te. Non preoccupatevi, sto bene, sto bene. Guardatemi, sto bene. Stai bene? Ah, sta bene. Oh, fantastico! Avete sentito? Marty sta bene. Ah, meno male. Perché mi stavo giusto chiedendo? Come è potuto farci questo, Marty? Credevo che fossimo amici. Che sarà mai successo? Sarai tornato domattina! Non devi farlo mai più. Mi hai sentito? L'hai sentito? Ragazzi, non abbiamo tempo. Oh, Melman, hai rottuto l'armovo! Mai più! Ma, mai più devi farlo! Vieni qui! Qualcuno ha cantato, ragazzi? Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. Se hai della papà, tirala adesso. Sono i Sapiens. Buonasera, agenti! No, no, no! Non devi parlare, ok? Non sei bravo a mettere insieme le parole e a farle uscire nel modo giusto. Tu fai shh! Ehi, come va? Sì, sapete? Va tutto bene. È solo un problemino tra noi due. Una cosa interna. Perché il mio amico è un po' impazzito. Capita a tutti. La città rende nervosi. Mi si è un po' rincitrullito. Ehi, non darmi del rincitrullito. Sta detto! Ho detto che ci penso io. Peccato! Via, via, via! Signora, mi dì un po' di tregua! Adesso riporto a casa il mio amichetto qui e... Dimentichiamo l'accaduto. Va bene? Tutto sotto controllo. No, no, no! Ehi! È a posto, sono io, Alex, il leone. Dallo zoo! Ma che libri ne ha quelli? Oh! Ahio! Wow! Oh! Mi sento molto, molto strano. Ehi! Oh! Vi adoro, ragazzi! Vi voglio tanto! Oh! Who can take a sunrise? Who can take a sunrise? Sprinkle it with you? Sprinkle it with you? The Candyman! The Candyman! Oh, the Candyman! The Candyman! The Candyman! Ehi! 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 Oh, la 14! Grazie.